Sapresti dire qual è il monumento più antico di tutta la piazza? Coyota, which is the oldest monument in the Uo Square? E' la cattedrale, la cui costruzione iniziò bene nel 1064 e finì nel 1150. E' la cattedrale, la cui costruzione iniziò in 1064 e finì nel 1150. Nel 1152 iniziò invece la costruzione del Battistero, nel 1154 delle Mura e nel 1173 della Torre. La costruzione del Battistero iniziò in 1152, le piazze in 1154 e la torre in 1173. Però per il completamento della costruzione della Torre di Pisa ci vollero secoli. ma è stato costruzzi anni per completare la costruzione della Torre di Pisa. Infatti, nel 1278, quando iniziò la costruzione del Battistero, la Torre di Pisa era ancora in costruzione. In realtà, nel 1278, quando la costruzione del Campo Santo iniziò, la Torre di Pisa era ancora in costruzione. La Torre di Pisa, anche a causa di problemi di cedimento del terreno, fu infatti completata solo nella metà del secolo successivo, ma l'evoluzione della Piazza dei Miracoli continuò fino al 1863. Quando entri, cosa ti senti? Senti prendere immediatamente la base. È vero, guarda. Nessun